Oh, domani è Natale! E chi se ne frega? Siete pronti a diventare dei ciccioni bastardi? Perché ammettiamolo raga, il Natale è una festa del cazzo. Arrivano 600 milioni di parenti che non vediamo da due secoli, che ci riempiono con i loro regali inutili ed osceni. Ma bello de zia, ti ho fatto il regalino! Grazie zia, non dovevi, sì ma che regalo di me! Poi ammettiamolo raga, noi dei parenti non ce ne frega un cazzo, vogliamo soltanto che ci riempiano di soldi per poterci devastare a capodanno e che se ne vadano il prima possibile fuori dalle palle. L'unica cosa che mi fa spaccare del Natale sono i miei nonni. Perché i miei nonni mi fanno scassare raga, non so cosa dirvi. C'è mio nonno che quando gioco alla play si mette dietro di me e mi dà lezioni su come si gioca a Battlefield. Ma guarda sti camper di merda! Minchia ma non vedi che ce l'hai dietro? Girati in un po' del pezzente che non sei altro! Nonno è una pietra! Ti dico che si muove, sparo! Non si è mosso, è una pietra! È un camuffamento, ma che ne sai, tutta la guerra! Disgraziato! E poi c'è mia nonna che con l'Alzheimer non mi riconosce mai. Ciao nonna! Eh? Ciao nonna! Ma chi è questo bel giovanotto? Sono io, cazzo! Ma io non conosco nessun cazzo! Sono io, virgola, cazzo! Va bene che c'è l'Alzheimer, però se ti dico ciao nonna chi sono? Batman! Niente ragazzi, quando arrivano i miei parenti io ritiro i soldi ed esco. Io non so più che cazzo dire, noi ci vediamo nel prossimo video! Buon Natale, bellissimi! 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 Grazie a tutti.